bello a tutti raga e ben trovati da matthios1196 sono nuovo si youtube vi avverto vedrete subito male lo so i primi video saranno così però beh intanto vediamo cosa posso fare ci troviamo con il nostro bel trevor cazzo vuoi? non lo volete prendere? che cazzo mica perchè poi se mi è stato così me lo devi ancora spiegare come un pozzicaccio? che non pisa qui che mi è troppo ed è che mi è troppo ed è Il giusto... Dov'è un po' diata? finito desidero molto male raga io direi che dovrei chiudere perché vedete diciamo che in pratica sono andata oltre alla durata che avevo detto e quindi ciao a tutti vedrete i miei altri video quello è sicuro però ciao